In via Morando 9 c'è una casa, meglio, una casa di ringhiera. All'esterno dalla strada si vede solo un muro puntellato da finestre e un grande portone a doppio battente, ma se si varca quella soglia, dentro c'è un mondo. Ci sono Adriano e Daniela, sposati da vent'anni e ora in crisi. Ci sono Giulio e Sonia, alle prese con storie d'amore difficili e non convenzionali. C'è Paolo, che invece ad innamorarsi non riesce proprio. E c'è Camilla, che sta faticosamente cercando di uscire da una relazione tossica e dolorosa. In via Morando 9 abitano anche Alessandro, Esther e altri personaggi, le cui vite si intrecciano in un mosaico di storie e racconti. Io sono Giuseppe Cederna e vi accompagnerò in questo viaggio nelle emozioni, nelle relazioni e nei pensieri di otto persone come tante, che si trovano ad affrontare le difficoltà e le bellezze quotidiane, tra le pareti di un condominio che potrebbe essere la casa di ciascuno di noi. Questo podcast è prodotto da Studio Rahim, in collaborazione con l'Equipe di Psicoterapia del Sant'Agostino. Puoi trovare Via Morando 9 su tutte le piattaforme dove ascolti i tuoi podcast preferiti.